Guglielmo Marconi e Ancona, un binomio che viene celebrato in occasione dell'evento internazionale dedicato all'inventore della radio ai 150 anni dalla nascita. Nella cornice del Monte dei Capuccini, nel Parco del Cardeto, si sono ritrovati i radioamatori della città allestendo uno spazio per ricordare il pioniere delle telecomunicazioni. Gli appassionati della radio hanno rievocato gli esperimenti che l'inventore fece ad Ancona. Noi praticamente andiamo a riproporre quelli che sono stati gli esperimenti di Marconi con una stazione che abbiamo montato questa mattina, con un'antenna ai nostri ricettrosmettitori, ovviamente moderni in questo caso, e andiamo a collegare tutte le stazioni del mondo che ci risponderanno, ma non utilizzeremo il nostro proprio nominativo, ma utilizzeremo un nominativo speciale che ci assegna il Ministero per queste ricorrenze marconiane. Marconi compì proprio sul Monte dei Capuccini delle importanti ricerche che lo portarono poi a ideare la radio. Lo scienziato arrivò nel capoluogo d'Orico il 6 agosto del 1904 alle 16. Tutto si basa su dei esperimenti nati per vedere l'influenza del luce solare sulle onde radio. Praticamente si è visto che con il sorgere del sole, le frequenze che venivano utilizzate ai tempi da Marconi si propagavano meno. La notte aveva delle lunghezze di distanza ben più alte, mentre di giorno, a mano a mano, i segnali si affevolivano. Questo ha portato a capire che certe frequenze sono utilizzabili per certe cose, altre per altri. Comunicazioni in codice, ricevitori, trasmettitori e antenne, in un evento aperto al pubblico e che ha l'obiettivo di far conoscere a passanti e curiosi alcuni aneddoti relativi al mezzo che più di altri ha cambiato la storia del Novecento. È il vecchio metodo di trasmissione da cui è nato un po' tutto, anche i nostri cellulari. E a noi piace collegarsi attraverso le onde radio con persone di altre nazioni, di altri continenti ed è sempre un'emozione. C'è anche uno scambio molte volte di cartoline particolari che stampiamo ognuno alle proprie, si chiamano QSL, che io ho piacere avere la tua QSL, che hai mai collegato quel giorno, quell'ora, in quella frequenza. Grazie. 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 Grazie.